Ciao, sono la dottoressa Rossella. Nello scorso video ti ho parlato dell'importanza di una buona idratazione del corpo anche sulla salute dei capelli. Infatti uno dei segreti per avere dei capelli sani e forti è quello di bere almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche se non si avverte lo stimolo della sete e soprattutto in questo periodo nella stagione estiva in cui ovviamente tendiamo a perdere molti liquidi con la sudorazione. Bere tanta acqua ti consente infatti di eliminare le tossine e le scorie dall'organismo evitando quindi che si accumulino sia a livello degli organi e allo stesso modo anche a livello dei capelli. È opportuno anche cercare di evitare di bere bevande gassate o alcoliche che hanno il solo obiettivo di far aumentare di peso e aumentare la sudorazione. A presto con il prossimo video.